Un sogno da realizzare è il titolo dell'Assemblea Nazionale dei Salesiani per il sociale in programma a Roma presso l'Istituto della Congregazione dei Missionari del preziosissimo sangue in Vianarni 29. Nell'anno del bicentenario del sogno di Don Bosco, questo incontro rappresenta una tappa fondamentale nel percorso della comunità e un'opportunità per condividere esperienze, progetti e visioni per il futuro. A ritrovare l'autentica solidarietà intesa come partecipazione alla vita degli altri, a guardare al pluralismo religioso e laico, a promuovere l'accoglienza che difende la vita, ad aprirsi all'amore per respingere la questione dell'odio, dell'egoismo, dell'indifferenza, sentimenti che ci disumanizzano e ci condannano alla solitudine. Un sogno da realizzare non è uno slogan, ma è l'obiettivo di tale assemblea per realizzare una forza creativa capace di grandi cose, che è la dimensione più autentica di ogni essere umano. Siamo a poche ore dall'assemblea nazionale di Salisiane TV Sociale e vi accoglieremo in questa bellissima struttura dell'istituto del preziosissimo sangue di Bianarmi 29. Ed è importante questa assemblea perché cambieremo insieme lo statuto, diventeremo rete associativa a tutti gli effetti. Il giorno seguente avremo un focus sull'economia sociale, sul mondo salesiano e sulla politica. È un focus molto interessante perché ci aiuteranno a capire insieme come realizzare il nostro sogno salesiano di un mondo sociale inclusivo, solidale, aperto ai più piccoli e accogliente verso i giovani. Salisiani per il sociale APS è un'associazione non profit costituita nel luglio del 1993, voluta e guidata dai salesiani d'Italia come strumento civilistico al sostegno della dimensione pastorale, del disagio e della povertà educativa. Si ispira a San Giovanni Bosco, il prete torinese che dedicò la sua vita ai giovani poveri ed emarginati.